Storia e leggenda si intrecciano nell'evento che l'Associazione Terre dei Savoi ha inaugurato a Savigliano nel seicentesco Palazzo Taffini d'Acceglio, già sede del MUSES, l'Accademia Europea delle Essenze. Sotto i riflettori il nuovo allestimento della Sala degli Dei, dedicato a Enea e gli Etruschi, nel quale mito e storia, arte e tradizione si fondono in modo virtuoso. Curato nei suoi aspetti storici dalla professoressa Loredana De Robertis, l'appuntamento si avvale del sostegno della Cassa di Risparmio di Savigliano, proprietaria del sito prestigioso, e del contributo delle fondazioni bancarie Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Fossano e Cassa di Risparmio di Cuneo. Poco tempo abbiamo preso in gestione Palazzo Taffini e finora abbiamo pensato più al contenuto che al contenitore. Oggi vogliamo pensare di più al contenitore perché questo è un palazzo veramente fantastico che va conosciuto e va visitato. E questa mostra che raccoglie dei reperti importanti che arrivano da molte parti d'Italia, grazie al lavoro che ha fatto Umberto Pecchini, perché è Umberto che è toscano di origine, e giocando sul fatto che nel restauro della Sala degli Dei, che ha fatto la Cassa di Risparmio di Savigliano S.P.A., che è la proprietaria dell'immobile, si sono trovati degli affreschi, purtroppo nascosti, non visibili, perché stanno al di sopra della volta, che ricordano gli episodi dell'Odissea di Enea e collegando poi col fatto che Enea, quando giunse in Italia, si alleò con gli Etruschi per conquistare Roma e poi di lì nacque Roma e allora lui, con le conoscenze che ha in Toscana, ci ha portato qui delle magnifici reperti. Grazie a questa iniziativa la Sala degli Dei ha avuto anche l'omologazione tecnica e sarà possibile ospitare altri reperti storici, archeologici, e quindi diventare veramente una sede di mostre e di momenti culturali di alto livello. Sì, questa è una cosa molto importante perché per poter ottenere prestiti dal Ministero dei Beni Culturali, quindi dai vari musei pubblici, dalle sopraintendenze, i luoghi in cui vengono inseriti devono avere delle caratteristiche sia ambientali che di sicurezza adeguate. Non è facile ottenere questi riconoscimenti, siamo riusciti ad ottenerlo, questo significa che abbiamo, tra virgolette, la patente per poter avere, dai musei più importanti d'Italia, delle opere. La nostra idea è quella di organizzare degli eventi, non continuativi, ma degli eventi che attirino in questo magnifico palazzo dei visitatori e un sogno è quello di abbinare un giorno questo palazzo con il vicino palazzo Cravetta che il Comune di Savigliano ha restaurato perché una gestione comune di questi due magnifici contenitori certo che sarebbe un unicum nella pianura cuneese e potrebbe davvero essere di grande interesse per molti visitatori. Già nel 2015 c'è stata l'inaugurazione del Muses e quindi abbiamo avuto l'onore di avere una importantissima manifestazione e anche oggi è un passo ulteriore in questa direzione e sempre con le terre dei Savoia. Così come il Muses oggi con le terre dei Savoia abbiamo fatto questa grande manifestazione. Volevo ringraziare appunto le terre dei Savoia e il Comune che recentemente ha inaugurato Palazzo Cravetta, quindi Palazzo Cravetta, Palazzo Taffini, Banca, Comune, Terre dei Savoia penso che sia un binomio, un trinomio che può fare in questi anni del bene alla città in una sua evoluzione non solo culturale ma anche economica. Quattro i temi individuati attraverso i quali ripercorrere alcune tappe importanti della vita del Palazzo e dei suoi protagonisti. Si parte dagli affreschi svelati, ovvero i rilievi fotografici di otto dei dipinti originari del fregio della sala oggi non più accessibili poiché coperti dalle controsoffittature realizzate nel Settecento. Essi hanno al centro il mito di Enea, celebrato dal sommo poeta Virgilio, la leggenda del popolo etrusco e l'antica storia della fondazione di Roma inseriti in un racconto epico di virtù nel quale i duchi di Savoia e i Taffini trovano identificazione e celebrazione. Tutto è nato perché abbiamo scoperto che gli antichi soffitti di alcune sale coperte poi nel Settecento da una controsoffittatura presentavano un fregio che presentava degli affreschi dedicati alla saga di Enea e agli esempla della storia romana. Quindi siamo partiti da lì perché abbiamo visto che tra l'altro alcuni di questi affreschi sono collegati al mondo etrusco e quindi ecco perché Enea e gli Etruschi a Palazzo Taffini, ecco perché gli affreschi svelati. Ma cosa c'entra Enea nel Settecento a Palazzo Taffini, giusto? Eh, c'entra moltissimo perché la grande Maria Cristina di Francia, moglie di Vittorio Medeo I, quindi duchessa di Savoia, alla morte del marito lo vuole commemorare con un'opera che resti eterna. Ecco che quindi commissiona a Jean Claret e Giovenale Boetto questi meravigliosi affreschi da una parte nel Salone d'Onore sulle vittorie del Luca, ma dall'altra riprende il mito di Enea perché Enea è l'eroe per eccellenza, rappresenta il grande eroismo di tutti i tempi e quindi nella figura di Enea si assimila un pochino la figura dei Savoia e del grande marito Vittorio Medeo I. A rafforzare l'epopea dell'eroe troiano si aggiunge l'esposizione di reperti prestati dai più prestigiosi musei italiani, grazie alla collaborazione del MIBACT con i Musei Reali di Torino e con il Polo Museale della Toscana, il Museo Archeologico di Firenze, il Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, la rete dei Musei della Maremma e in particolare il Museo Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia e il Comune di Castiglione della Pescaia, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale con il Museo Civico Archeologico Lavinium e il Comune di Pomezia. Devo dire che quando il dottor Picchini è venuto a trovarmi nel mio ufficio e mi ha parlato di questa idea di ripresentare il mito associando dei reperti archeologici mi ha trovato subito entusiasta e quindi ne ho parlato al direttore dei musei reali che è Enrica Pagella e abbiamo deciso di aderire all'invito presentando una serie dei reperti archeologici che sono nelle nostre collezioni storiche e sono esposti nel percorso del Museo di Antichità. Io mi auguro che la collaborazione possa continuare ma soprattutto l'esposizione attuale può essere uno spunto interessante anche per la collettività, per la comunità locale per vedere quali sono i tesori che abbiamo esposti nel museo. E questo nostro prestito temporaneo è soltanto una piccola, minuscola ma molto importante esemplificazione dei reperti archeologici etruschi e dieta classica, dieta romana. Questo contatto veramente degli etruschi a Palazzo Taffini è stata un'occasione incredibile intanto per la location stupenda che ci sta accogliendo e poi per l'intuizione che Umberto Pecchini e Loredana De Robertis hanno avuto per portare l'Etruria al Muses e con l'Etruria creare un collegamento prima di tutto fra gli dèi e gli eroi dell'antichità ricollegarsi alle origini di Roma quindi con Enea visti gli affreschi recuperati dello sbarco di Enea della preziosissima quindi sala degli dèi e poi dall'eroe latino si passa all'eroe greco che sarà acquisito in Etruria come divinità delle città Ercole Ercole che ha lasciato delle testimonianze in Etruria straordinarie prima fra tutte la clava di bronzo identica a quella della statua maggior del vero esposta ai musei capitolini a Roma che è stata recuperata alla fine dell'Ottocento nell'antica città di Vetulonia due le città etrusche qui presenti più delle altre della celeberrima antica dove Capoli d'Etruria Vetulonia è chiusi tutte e due così strettamente collegate con Roma da creare il tessuto connettivo della mostra Ercole perché è la divinità che più delle altre sarà acquisita nel culto e che ha restituito quindi anche sempre dal territorio di Vetulonia un bronzetto di straordinaria elevatezza bellezza tecnica che è il numero 5 della condizione Granducale che ha formato il Museo Archeologico di Firenze e è in mostra sempre nella Sala degli Dei dove regnano gli affreschi dedicati ai miti dei fiori e delle piante simbolo di rinascita e di bellezza si rende omaggio a due donne che nella storia hanno interpretato l'epoca dei fiori, dei profumi e dei giardini con le loro essenze Caterina De Medici e Maria Cristina di Francia detta Madame Reale qui vengono rappresentate con due splendidi costumi realizzati dalla stilista Sonia Maestri a chiudere idealmente il percorso espositivo che si affianca alla realtà del Muses è presente l'olfattorio Dottor Taffi una teoria di 24 vasi in vetro di Murano ispirati agli arriballoi etruschi e progettati per esperienze sensoriali innovative gli olfattori sono proprio delle piccole opere d'arte perché sono state fatte a Murano in una delle più antiche vetrerie che ancora produce soffiando il vetro e noi quando abbiamo ideato gli olfattori ci siamo ispirati proprio anche alle forme degli arriballoid che sono quindi vasi etruschi che utilizzavano le donne etrusche per fare proprio delle docce di unguenti profumati la mostra sarà aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2018 con il seguente orario da martedì a domenica dalle 10 alle 13 dalle 14 alle 18 grazie a tutti grazie a tutti